Rocco Siffredi ha tenuto il suo evento Arda Ceglie Messapica ieri. Lo aveva annunciato nei giorni precedenti, ne farà verosimilmente un film con numerosi partecipanti. In un video promozionale dell'iniziativa ha pronunciato Ceglie Messapica con un cambio di consonante che da vari abitanti non è stato gradito. Sindaco per primo. Angelo Palmisano ha fatto chiaramente capire che l'iniziativa del produttore ed attore di film porno, nello storpiare il nome del paese, non va bene. Ha sottolineato che Ceglie Messapica ha altri modi ed altri valori per mettersi in evidenza, per la sua storia, la sua cultura, la gastronomia, l'accoglienza dell'altro.